Un grande senso di responsabilità, il nostro settore è stato quello che ha chiuso per prima, prima addirittura che fosse emanato il lockdown di chiusura dell'8 di marzo. Il settore che ha riaperto da poco, la prima regione è stata la Toscana il 13 di giugno, poi a man mano sono seguite tutte quante le altre, l'unica regione che ancora non è aperto al settore dell'intrattenimento è la Sardegna, certamente si è aperti con grande difficoltà, con delle restrizioni per cui molte aziende hanno preferito non riaprire, il nostro è un settore al collasso come qualcun altro, certamente il problema del Covid c'è, è reale, ma certamente ad oggi per esempio in Italia ci sono soltanto 68 ricoverati in terapia intensiva su 60 milioni di abitanti, innanzitutto io vedo anche una disparità di trattamento, per esempio se l'assembramento è così pericoloso, io ieri ho fatto un volo da Brindisi, Brindisi Roma, Roma Palermo, entrambi i voli erano stracolmi di gente uno accanto all'altro, allora io mi chiedo perché se in aereo ci sta un accanto all'altro, invece in discoteca c'è un distanziamento sociale da rispettare, allora se io vado a vedere sulle spiagge dove la gente si bacia, si abbraccia, in discoteca questo non è possibile, questo non è che voglio asserire che sia giusto farlo in discoteca, ma mi solge spontaneamente una domanda, il virus ama forse la pista da ballo, come le dicevo poc'anzi è un settore in crisi, lei Pasca sicuramente ha toccato un tasto importante perché c'è stata polemica su come alcune compagnie aeree stanno gestendo l'emergenza, vero è che però in aereo si sta con la mascherina, non so in quanti luoghi dell'intrattenimento le persone stiano effettivamente con la mascherina. Certamente sì, però c'è anche il problema importante della responsabilità oggettiva del datore di lavoro, se gli avventori dove ci sono delle norme e in discoteca bisogna essere con la mascherina, violano le disposizioni come l'obbligo della mascherina, perché la responsabilità deve ricadere sul datore di lavoro e invece per quanto avviene tutti gli assembramenti che sono negli stabilimenti balneari, nelle movide notturne, la responsabilità poi è su chi ricade, certamente noi vogliamo far rispettare le norme, però le persone a volte sono anche insolenti e quindi a questo punto sarebbe lo Stato che deve intervenire.